Siamo qui con David Ferrara, numero 8 del mondo, best ranking numero 3 al mondo. Qualche domanda, curiosità su quello che è la tua vita in preparazione al tennis. L'alimentazione è diventata una parte fondamentale della preparazione. Sappiamo che Djokovic ha una dieta senza glutine, Marey ama il sushi. Qual è il tuo segreto di dieta, la paella? Il segreto è la dieta mediterranea, però un po' di tutto. Penso che sia molto importante la dieta per un sportista e ha evoluzionato molto in questi anni l'alimentazione. Intento di mangiare un po' di tutto, però basicamente proteine per la nocce e idrati di carbono antes di giocare la partita. Sei top 10 dal 2010 costantemente, con grandissimi risultati. C'è un momento che ti ricordi in particolare, il tuo ricordo più bello della tua carriera finora? Io penso che il più bello, il più migliore anno è nel 2012. Perché ho vinto 7 tornei, ho vinto la prima Master 1000 in Paris-Versì. E poi, magari nel 2011, quando ho vinto la Coppa Evis, ho vinto molte emozioni allo largo della mia carriera tenistica. Allora, recentemente abbiamo visto Djokovic si è sposato, Marry da pochissimo e hanno avuto un incremento nei risultati. E il tuo momento? Bueno, il mio momento già arriverà. Però, bueno, magari al final di anno, quando avrà questa temporale. Bene, grazie.